Spazio alla responsabilità, il primo salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, siamo qui con Francesco Antonucci, vicepresidente vicario dell'Andi, l'associazione nazionale dentisti italiani e che ha anche un ruolo sul livello nazionale molto importante che è, glielo facciamo dire a lui, vice segretario sindacale nazionale e con l'Andi qui ha spazio alla responsabilità, tra poco promuoveremo un importante progetto che è Sorrisi in Salute ma prima di andare nello specifico del progetto promosso dall'associazione Sorrisi in Salute che è l'Oral Cancer Day, veniamo un attimo a l'Andi, esattamente di che cosa si tratta? è una delle tante associazioni che raggruppano i dentisti italiani ma ha delle sue poi specificità non è una delle tante associazioni, io sarei di dire che l'associazione, l'Andi rappresenta quasi 24.000 dentisti, ce ne sono sicuramente altre sul territorio ma quella con una storia e con un know-how presente sul territorio nazionale ormai da oltre 60 anni è la nostra associazione associazione che nasce ovviamente nel 46 e rappresentava i medici dentisti che ha avuto subito la lungimiranza di capire i cambiamenti della storia dell'università e del mondo scientifico nel momento in cui è entrata la figura dell'odontoiatra nel campo medico ha cambiato immediatamente nome e quindi da Andy si è denominata Andy. Questo cambiamento storico è segnato anche dal fatto che ormai molti di noi ai vertici dell'associazione sono ormai laureati in odontoiatria non più laureati in medicina. Coloro che aderiscono all'Andi accettano un codice deontologico professionale che prevede un elevato standard di qualità, quindi ci si impone di arrivare a dei livelli di professionalità particolarmente alti? In effetti l'associazione proprio quest'anno si doterà di un codice etico e Napoli sarà protagonista ancora una volta perché ci sarà l'assemblea nazionale e la votazione del codice etico proprio qui a Napoli il 31 maggio e il primo di giugno. L'associazione si è dotata di questo codice etico dove comunque anche il nostro presidente regionale ha contribuito molto alla stesura del lavoro. Adesso questo codice è stato diffuso a tutte le sezioni provinciali e si voterà tutti quanti insieme a fine maggio l'approvazione del codice etico. Qualche elemento qualificante di questo codice etico? Assolutamente, basta pensare a quello che è stato praticamente quel servizio che penso abbiamo visto un po' tutti a striscia la notizia di un collega dentista che poi permetteva a assistenti e ad altri di mettere le mani in bocca e si è poi scoperto che era anche un esponente di commissioni odontoiate. Quindi uno degli elementi qualificanti è comunque l'impararsi, il porsi in un certo modo rispetto al cittadino e rispetto anche alla salvaguardia del buon nome dell'associazione stessa e della professione. E questo è fondamentale anche per avere da parte del cliente la massima fiducia nel momento in cui si va ad operare su di lui? Assolutamente, perché una cosa importante che noi cerchiamo di trasmettere al cittadino è che l'iscritto Andy, innanzitutto il fatto stesso di essere iscritto Andy, già c'è stato un primo controllo, cioè quella persona è sicuramente iscritta all'ordine dei medici perché noi chiediamo al socio, chi fa la richiesta di diventare socio, di comunicarci il numero di iscrizione all'ordine dei medici. Quindi già c'è quella è una prima verifica, siamo già sicuri che non siamo di fronte a un abusivo, tra virgolette, o un'eventuale diciamo persona che fa questa professione senza averne dei titoli. Ovviamente poi ci saranno all'interno del codice etico anche delle... qualcosa che ricordi quello che è il codice deontologico nei medici, noi non dimentichiamoci che prima di tutto siamo medici insomma. Quindi Andy è anche un bollino di qualità e la qualità inevitabilmente impone anche un costo? Assolutamente sì, parlare di bollino di qualità in associazione è un grosso problema per chi fa associazione già da un po' di anni, qui diciamo che è un termine che noi preferiamo non utilizzare, però sicuramente implica un'accettazione, l'accettazione già di per sé di voler rispettare quelle che sono le norme sul territorio nazionale e regionale implica un costo, basti pensare a quella che può essere la banale differenza tra una persona che decide di aprire uno studio sul territorio italiano o chi lo apre in Croazia. Noi abbiamo dagli oneri più semplici quelli autorizzativi, cioè un'autorizzazione regionale per poter, appunto un'autorizzazione sanitaria per poter esercitare. Abbiamo oneri che riguardano controlli per gli impianti elettrici, controlli degli apparecchi radiografici, oneri che riguardano il personale, oneri che riguardano la nostra formazione perché non dimentichiamoci che noi per il fatto stesso di essere dei professionisti della salute siamo tenuti a una continua formazione, quindi quella che viene denominata ECM. Quindi possiamo dire che un professionista dentista italiano che rispetta tutte le normative previste dal nostro ordinamento è oggettivamente un professionista di straordinario livello? Ma straordinario è un termine grosso, sicuramente un professionista di livello poi lo straordinario sarà dopo la singola persona a decidere questo però sicuramente una persona che decida oggi come oggi di fare il nostro lavoro è di fronte a tante problematiche di natura sociale e di natura organizzativa. La ringrazio Vice Presidente, tra poco c'è il convegno di Sorrisi in Salute per la presentazione dell'Oral Cancer Day, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a te.